Benvenuti in questo appuntamento con Jolie, un programma che tratterà argomenti legati alla bellezza intesa come armonia. In questo primo appuntamento abbiamo convocato un massimo esperto, è il caso di dirlo, con più di 40 anni di esperienza nel campo della chirurgia estetica, nonché uno dei pochi chirurgi estetici membri in Italia delle più importanti società internazionali che garantiscono proprio la professionalità in campo di chirurgia estetica, che è il professor Raul Franchi. Ho citato soltanto questo titolo, ma in realtà il curriculum visibile sul suo sito è veramente molto molto lungo, ricordiamo anche che ha diretto l'unico reparto di chirurgia plastica in Regione. Io per allora sembravo un visionario, perché non si parlava di chirurgia plastica, era quasi inesistente chirurgia estetica, infatti non c'era niente in Abruzzo, io ho sempre fatto questo per passione, da quando mi sono laureato, mi sono laureato presto, perché volevo proprio intraprendere, sono il 49, il 73 mi sono laureato, perché proprio volevo intraprendere questo cammino che mi ha sempre appassionato. Adesso la disciplina si è diffusa largamente, anche snaturandosi certe volte, non è più chirurgia veramente estetica, sia per il fine che si propone tante volte, non c'è armonia come hai detto tu, sia perché poi si è anche andata ad affidare a tecniche spicciole che con la chirurgia non hanno nulla a che vedere. Esatto, professore anche contratto proprio di chirurgia plastica e insomma tanti titoli non solo qui in Regione, ma anche all'estero. Questo insomma garantire che la massima professionalità inizia proprio dal prendere con consapevolezza e con molta attenzione il proprio corpo e quindi creare e consigliare anche spesso quelle che sono le richieste. importantissime, altrimenti si parte su un piede sbagliato, se si viene con l'idea, che molte volte il paziente viene già con l'idea di quello che deve fare, perché gliela ha consigliato l'amica perché lei ha guardato se lo specchio lo pensa, perché io assisto nel mio studio delle richieste tante volte prive di qualunque senso, perché poi c'è una pseudo informazione tramite internet, quello che una volta avveniva con le chirurgie mediche, adesso avviene su internet, ma internet non sempre dice il vero, insomma e poi su internet si può pubblicare quello che uno vuole e poi c'è l'interpretazione, non essendo del campo c'è una falsa interpretazione e quindi la visita è importantissima perché permette di fare il programma da seguire per ottenere quel certo risultato. In questa prima puntata focalizziamoci sull'invecchiamento, di conseguenza la voglia di ringiovanire. Adesso non vuole più invecchiare nessuno. Magari, la pozione magica c'è, non ancora. Ci sto lavorando. Ci sto lavorando. Ecco, ringiovanimento. Ci sono tante tecniche, parlava bene di internet, spesso noi donne poi curiosiamo e ci facciamo le nostre idee, poi ci consultiamo e poi alla fine siamo le terne indecise. E poi qualche volta vi affidate al Magaro, il Magaro del mondo che vi promette Mario e Monti senza nessuna aggressività, nessuna invasività e poi rimanete delusi. E rimanete delusi, infatti. Approfittiamo di questo momento per fare un po' di chiarezza sulle tecniche che possono esserci invasive o meno invasive. Allora, la tecnica più semplice, anche efficace in relazione al piccolo trauma che c'è, è più diffusa veramente, sono quella dei filler, del botulino, quindi si può iniziare. Se si vuole iniziare da qualche cosina di soft, da filler. Il filler però devono essere fatti bene, prodotti adatti. Bisogna sempre che la fiala sia usata solo per un paziente. Il paziente deve sapere quello che mette. Normalmente il prodotto che si usa nella quasi totalità dei casi, il prodotto più sicuro è l'acido ialuronico in tutte le sue forme. C'è anche qualche altro prodotto. Quelli che sono andati un pochino in disuso per tutti i problemi che hanno dato, sono i prodotti permanenti, perché creano tanti problemi. Parallela alla pratica dei filler c'è la pratica del botulino, che non è un filler come molti pensano, lo chiamano allo stesso modo filler. Filler è un termine inglese che significa riempimento, quindi una ruga che viene riempita si vede di meno. Invece il botulino lavora con un altro sistema, paralizza il muscolo che crea le rughe, quindi paralizzando il muscolo distende il muscolo e quindi la pelle e del tutto si vede di meno. Poi adesso si è diffusa anche la tecnica del micro botulino, una tecnica tra virgolette si potrebbe definire rivitalizzante, perché si fa su larghe superfici a un dosaggio minimale di concentrazione di botulino, per cui si vanno a paralizzare i sottili muscoli più superficiali della cute, per cui la pelle si distende un pochino tutta, ha un aspetto più fresco e si usa in questa maniera qua e quindi ha anche questi vantaggi che non va proprio a focalizzarsi su dei muscoli in maniera particolare, ma su tutti i muscoli più superficiali, piccolissimi della cute. Poi negli ultimi tempi è diventata una pratica abbastanza diffusa quella del PRP, diciamo plasma arricchito di piastrine, in quanto nelle piastrine si sono trovati fattori di crescita, noi siamo stati all'ospedale di Pescara in collaborazione con l'ematologia, con il reparto di primo ordine, nel 2003 abbiamo portato a Firenze uno dei primissimi articoli in Italia, nel mondo, dell'uso di queste piastrine in cui si furono scoperti i fattori di crescita, però in ospedale lo facemmo per far guarire le piaghe, le ferite e avremo dei grossissimi successi, la pappa dei piastrine famosa, noi siamo stati tre primi a usare, invece il PRP è praticamente presso dal sangue, c'è la parte un po' sierosa, si può usare come rivitalizzante, la parte corpuscolata come filler, poi c'è il lipofilling, il lipofilling che è relativamente moderno, io ho seguito, sono stato allievo, il professor Fugnier di Parigi, che ebbe questa idea, il primo articolo fu del 1985, lo fece con la siringa stessa, valevava il grasso, lo purificava per così dire, ha scoperto che questo grasso iniettato contiene delle cellule staminali, per cui oltre a riempire, rivitalizza il tessuto in maniera reale, però poi se vogliamo avere dei risultati più validi dobbiamo ricordare la chirurgia, ben inteso che anche queste tecniche che abbiamo detto, ad esempio il lipofilling, il PRP, devono essere fatti in ambienti idonei, molte persone hanno paura, infatti proprio questo volevo chiedere, hanno paura, quando sentono la sala operatoria si irrigidiscono, allora si fidano più di una procedura fatta un po' grossolanamente alla San Vesor scorrettamente, magari in uno studio qualsiasi, in un ambiente qualsiasi, in un ambiente commerciale, eccetera, perché pensano che sia più sicura, perché è meno rischiosa, no, quella diventa, non si considera il rischio, l'operatore sembra la stessa, solo che il rischio non viene considerato, viene fatto diciamo in maniera scorretta. Quindi un primo preconcetto lo dobbiamo raccontare. Se uno la stessa cosa la fa in sala operatoria è sicuro, sicuro della serenità, non incontrare malattie, avere il supporto se si sente male, la sicurezza nei limiti del possibile, sicurezza in campo medico, non c'è mai, del risultato, eccetera, eccetera, è tutta la procedura corretta. Se lo fai in un ambiente qualsiasi, in idoneo, affronta tanti rischi, però quando si sentono la salvo perfettura, si sentono gli dischi, ma è sempre la stessa procedura, è una sicurezza, immagina che sia più male, la procedura è sempre la stessa, la procedura è sempre la stessa, se lo fai nel tuo bagno di casa, è un conto, se lo fai in un ambiente sterile, protetto, con tutte le capaci, è un altro. Ecco, molti magari la mettono in maniera troppo semplicista, è già un allarme, è già un allarme, già mettono in maniera semplicista, è un allarme, perché è sempre la stessa procedura, se io, capito, chi rischia, non sono io, ti lungo, rischi e pazienti, è ovvio che si spende qualche cosa in più, perché la struttura non è che te la fanno distribuire gratuitamente, ha dei costi, ma voglio dire, si spende tanto in più, non so, per comprare un cappotto, per comprare un vestito, una macchina, eccetera, eccetera, e là per la salute non si investe, cioè, e poi ci si affida a persone, tante volte, che operano molto scorrettamente, perché in genere c'è poi un'associazione, chi opera senza nessuna regola, normalmente non ha nemmeno buone regole nella professione, cioè non è un professionista affidabile, quindi non ci si rende conto di questo, e per questo noi abbiamo una cattiva fama, che steggia ogni tanto in televisione, e bisogna, anche internet, bisogna saper leggere, io nel mio curriculum ho messo solo i titoli conseguiti, perché se io metto, fatto una frequenza lunga in America, in Cina, in Messico, che significa? Non significa niente, posso essere andato a fare una passeggiata, ma nemmeno ti chiedo il biglietto talereo, quindi posso anche non esserci andato, se non ho conseguito niente, che provaccioio di quello che ho fatto? È il titolo, è il titolo che c'hai, è ovvio, se no il curriculum non serve a niente, quindi poi se andiamo alla chirurgia vera e propria, adesso pur con tutte le sicurezze e con rispetto di tutti i protocolli, la chirurgia è diventata molto più confortevole di quello che era, una volta con un follow up molto più breve, una convalescenza molto breve. Esatto, sì, infatti è una delle cose che un po' spaventano anche capire il periodo quando fare alcuni trattamenti per capire i tempi poi di convalescenza, le accortezze, i fastidi che si possono avere, ecco, in questo caso tra i vari trattamenti. In questo caso andiamo ai lifting, il salto di qualità e i lifting, però possono essere anche dei lifting settoriali di alcune zone, è raro che si faccia un lifting totale che coinvolga la fronte, gli occhi, le guance, il collo, insomma, qual è il problema che è più affitto? Il lifting settoriale, diciamo, tutta la parte alta della fronte, delle sopracciglia, un lifting facciale, se appunto vogliamo risalire le guance, vogliamo tendere un pochettino le rufe che sono presenti nella parte media, bassa del volto, oppure possiamo andare anche a voler agire sul collo, naturalmente sempre attraverso un lifting, non con aggressioni di ventre del collo, o meglio, qualche volta si fa anche, ad esempio, non è proprio lifting, ma tante volte per le bande platismatiche che vengono fuori quando ci si invecchia, si può anche agire tutto attraverso un taglietto sotto mentoniero, o per un collo adiposo, un doppio mento, si può anche aiutarci con la lipaspirazione, con delle metodiche più dirette e diciamo magari anche minoritarie sotto l'aspetto in base dell'invasività, però sono tutti interventi che se si rispettano le regole si fanno in giornata, senza nessun ricordo, diventa una passeggiata, però bisogna rispettare i protocolli, bisogna essere sicuri, fare gli esami, avere la stabilità, avere la salovatoria, avere l'anestesista, che non solo permette il comfort del paziente, ma permette che non si alzi la pressione in maniera spositata, che non ci siano movimenti inidoni del paziente, insomma bisogna stare tranquilli e allora si ottengono veramente tanti risultati, adesso non è più come una volta, si ricomerava magari per una settimana, bisognava stare lontani dalla vita lavorativa e sociale, di relazione per un mese, no adesso è una cosa assolutamente, bisogna considerare anche questo, ci si può avvicinare alla chirurgia con molta più tranquillità e molta più fiducia. Grazie mille per averci dato questa chiarezza e questi consigli per stare attenti a in che mani ci si affida e soprattutto per averci dato chiarezza sulle tecniche, quindi quali possono essere riconosciute grossomodo più appunto legate alla medicina estetica, quindi già che possono essere fatte in ambulatorio e quali invece è bene, come dire, affidarsi a un'equip di professionisti che faranno in modo di essere sicuramente in sicurezza e ottenere anche risultati sperati, per cui grazie mille, quasi quasi mi ha fatto venire voglia di fare una visita perché mentre parlava vedevo che mi osservava il vento. Non ne ha bisogno, non ne ha bisogno. Grazie, gentilissimo, ci vediamo sicuramente a un prossimo appuntamento perché io ho altre domande da farle. Grazie ancora al professor Alfranchi. Grazie mille.